Anche se mi città, ho il mio fratello Giulio, c'è una puttana. Tu come prendi il numero mio? Hai sentito? Hai registrato? Cucciola? Tu non sai neanche chi cazzo sono, tu non sai neanche chi cazzo sono, io la testa sulla bocca, 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 cogliona. Scusa. Buttala fuori dall'aereo. Evitami, 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 togli, togli, spostati, go away, ok? Cioè, mi è venuta a dire a me la distanza. Cioè, come caso si salita sull'aereo? Prima ora di merda. A fare la gnocchia. Sta lesbica di merda. Eppure si vede avracciata la pazza. Eppure l'esbica. Eppure l'esbica. Eppure l'esbica di merda. Una mesciata con le mesh. Pintana. Guarda che se non la smetti... Beh, cosa mi fai? Se non la smetti... Cosa mi fai? Con problemi, va bene? Con quali problemi? Chiudi la bocca e pasta. Eleccameli. Quali problemi sono? Eleccameli. 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 A me delle persone mi piaceva un cazzo. Quali sono i problemi? Eleccameli. Tu sei solamente uno steward. E io sono un steward. Ok? Quali sono i problemi? Eleccameli. No, la bocca... Allora, se a me non puoi essere democratico. Io parlo quanto cazzo mi pare. Ok? Non puoi offendere. Non puoi offendere. Offendere. A questo lei sta puttana. Troia. Ma smettila, dai, da più gente. Eccola, faccia a smettila. Ma c'è veramente una zoccola. Basta, smettila, quel pesado... Prendi, il nominato che fai una denuncia? Fui per piacere. Fui per piacere. E poi non scoperta. E poi è scoperta. E poi è scoperta. Diccio. Cosa fa? 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 Cosa fai? Cosa fa? Cosa fa? Cosa fa? Grazie per la visione!